Come Lega abbiamo dimostrato di avere alto senso di responsabilità rinunciando il nostro candidato nella prima votazione scegliendo Franco Marini. Crediamo che la soluzione sia quella di un candidato unitario e non abbiamo assolutamente gradito questa spinta in avanti del PD che con una prova muscolare cerca di imporre prodi.